Allora signori, oggi andremo a reagire al mitico Bowlo con il video The New Way to Play Grimm Il nuovo modo per usare Grimm e ho visto che nella miniatura c'è scritto doppio pompa Userà Grimm col doppio pompa? Non lo so, sono curioso e let's go Allora, 3, 2, 1, let's go di Bowlo Allora, penso che l'audio sia GG In teoria la mente non abbassiamo, poi vediamo quando lui parla Ma come l'ha ucciso, scusami Ragazzi, posso dire che è schizzato? Allora, io vi direi, bello il pompa di Grimm Ma sta cosa che abbiamo visto ora qui Succede una volta su 14 mila Perché penso che non one-shot-ti quel pompa, beh Non penso Cosa? Il pompa di Grimm, penso non one-shot-ti Non lo so, non lo so Non lo so Vediamo Non è quello dei francesi? Oddio Eeeh È quello di Pulse Ah, è quello di Pulse? Sì Oddio, ha one-shotato uno Ha one-shotato due È one-shotta quello, sì È buono One-shotta? Sì Alcune Non è il migliore, ovviamente non è buono Allora perché non usiamo il commando su Grimm Vabbè, ma perché usiamo Grimm? Questa è la cosa Ora che l'hanno un po' buffato Io no Non uso Grimm Eh, ma perché è ora che l'hanno buffato La nuova system magari vediamo Sai che su questa mappa qua Grimm col pompa non è una brutta idea Eh sì, perché è molto close come mappa È il contrario della mappa che c'era prima Quindi le distanze così è perfette Eh, è usata così È figo Poi c'è la doppia Doppio pompa ragazzi Perché c'è pure la Balif Esatto Che ancora non ha usato Allora, vediamo Continuiamo a vedere come distrugge con Grimm Col pompa Io voglio capire però se utilizza la Balif Guarda, lui non gliene fega niente Madonna I flick che lancia Ha distrutto Porco due, l'ha devastato E neanche lo vedeva No E quello di Doc non Pulse Sei sicuro? Se è quello dei francesi è devastante Ah, ok Noi raga, non uso Pulse Mi sembrava quello su Sinceramente, non lo so Quindi è quello di Doc Che non pensavo avesse un pompa Sinceramente Quello di Doc è fortissimo Ma non lo so nessuno È migliore di quello di Pulse Ma perché la guanti Ma Perché la shot Nel fight è migliore come pompa Lo devo provare Vedremo 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 Guarda questo ragazzi Dobbiamo avere Abbiamo avuto Abbiamo avuto Abbiamo avuto Abbiamo avuto Abbiamo avuto Abbiamo avuto E poi c'è anche l'1.5 sul P90 C'è capisce che è proprio Abissario Eh ma ad esempio su Grimm C'è pure l'1.5 Però Non hanno C'è Poi i francesi Non hanno Una secondaria Come Smokey Vitt C'è non hanno un SVG Hanno pistola Quindi è più complicata Oddio non penso Che le api arrivino sotto Ma ce l'ha Lo ha distrutto da lì? Ma in che senso? Ma neanche l'ha preso Gli ha preso il braccio Tipo Ragazzi Sta pompa Carino Porco due raga No ancora no Giuseppe Non glielo frega niente Neanche della gu Vabbè che ovviamente Ragazzi Ho ITS Quindi ci gioca Sta giocando casual Però Penso giochi sempre così Ragazzi No comunque Eppure dalla distanza One shot Non occhi Però non occhi Tanta roba Tanta roba Sì raga One shot A sto coso Dall'altra parte del corridoio Sì È pure lontano Oh raga È da provare Sto pompa Ci potrebbe stare Difficile ovviamente Ragazzi Perché Ma in che senso Il teammate Ma in che senso Ma Cioè se l'ho ammazzato da là No bro No Non è un pompa Raga Non ha senso Cioè ho capito Cioè ho capito che c'è il laser Però non dovrebbe One shot Da quella distanza Cioè L'ha sempre fatto Quel pompa Sì ok ma Guarda neanche Senza pure Senza mirare Cioè Mi sembra un po' troppo Secondo me Da provare allora raga Porco tu One shot Cioè guarda qua Senza mirare Così Vabbè Strano raga Ok Non penso che possa andare lì dentro Non penso che possa andare lì dentro Rego carino Sembra anche il cappello Sembra un pokemon Ma un po' è impazzito Bolo NTS Eh raga Penso si sia drogato In quella live Palese Ma guardalo Ma tutto a posto Non erano Tipo dopo 6 ore di live Ma può essere Perché c'è È esaurito È fuso Ma Insomma Non provate Non provate La casa C'è la cosa difficile Cioè l'unica cosa che mi triggera di Fenrir È che quando Te ne rompono uno Che è attivo Non ne puoi attivare un altro Davvero? Sì Lo sapevo Sì da 3 Diventano 2 attivabili Perché il terzo Te l'ha rotto Mentre che l'ha attivato E se ti rompono anche il secondo? Eh ne è solo uno Ne è solo uno E se ti rompono il terzo Dopo non puoi più attivare No No Se loro te lo rompono Mentre che tu lo hai attivato Te ne scala di uno Cioè è inutilizzabile E quindi altri non li puoi più attivare Li puoi attivare 2 A posto di 3 Ok Quindi ogni volta che te ne rompo un attivo Sì Scala di uno Grazie Sì Oh questo sarà il garage Comunque mi piace un botto Fenrir Sì è un buon operatore Come gameplay raga mi piace un casino Oh bello Ma chi è che fa bip Ma è lui Eh ti ho detto che è esaurito Sì sì Cioè è impazzito Vabbè esce però c'è insomma È tutto in round che fa bip Ho appena visto le sue cuffie Quelle che stavo dando adesso Nulla di che Cioè Ma ti ripeto Ma potrei stare pure delle cuffie di merda Se ce le ho schedato Cioè non è che è nulla di che Nel senso Nel mondo Cioè di quel tipo di cuffie lì È nulla di che Perché costano 130 euro Sono delle cuffie Sai no quelle da studio Ma ricordate Sì 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 Ma no ma dai nooo Perché no Ma non si fa Comunque ecco Questa finestra qua è una di quelle finestre Che so già che si possono fare degli sponchi Sì a voglia E anche ti dico Anche facendo Impact sul muro Erano tanto Erano tanto Il balcone si può fare Eh lo saluto Quindi non è tolto Però è Comunque più difficile Soprattutto non c'è più lo spon Che il piano Che è quello più rognoso No di più le 13 finestre In piano Cristo Cioè dici vabbè Una finestra Cioè erano Tre A sinistra Cioè due sopra Cioè che palle Eh sì Troppe finestre Cioè non la potete Cercare tutto ogni volta Che poi ne cercavi tre Passavi alla quarta E la prima spuntava Perché cioè E poi usciva uno da main Sì c'è veramente Bello lì in main Ma è cosa bella che ti poteva pure uscire da Da visa Oh mio dio Posso mettere I cosi dei droni negli angolini Eeeh Il libretore Ehm Per far finta di essere nell'angolino Invece non solo nell'angolo Ah beh sì Tipo lo prendo e lo piazzo lì solamente per Ma che mira c'è Porco Due raga Madonna Madonna Oh Veramente C'è Che va sta Ma adesso C'è una mira assurda E allora probabilmente lo vedi Sì sì lo vede Cioè non che l'hai fatto ora Vedo il simbolo Il logo Cosa ha detto no ragazzi Bazzi E che fa ora E che fa ora Mh E che fa ora E che fa ora Oh mio dio C'è quello Quello s'ha bloccato ma c'era uno sopra In botola Potrebbe tirare pure il fuoco Ribalzando sulla finestra C'è Comunque si sono fissati su quella finestra La vogliono assolutamente prendere La vogliono entrare da lì Sì Tu era raperato sul balcone Sì Oh mio dio bro Sì, sei un uccanico Uccanico, non posso parlare Non so perché le mie cose ancora funzionano Ma non è psicopatico a fare così Sì, sono scusato ma C'è quello che ho detto Però è sui TS però Ma adesso puoi fare anche il rank Sì, sì 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 Però questa mappa mi piace un botto Sembra veramente figa raga C'è una mappa che quando uscirà Al momento E poi magari mi rompe le palle Ma al momento potrò dire Figa Ok, ci sta Va bene Ovviamente al momento ragazzi Non si è capito se è difensiva O offensiva Non ci fanno le strade Rai vedere il rank con la gente Che try yarda con rotation Duki Ho notato che dobbiamo anche In mezzo studiarci qualcosa Giusto Ah sì O giusto capire come difendere Sì Scam Scam Sì 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 Io voglio iniziare a trainare Sì, se vai a un profilo di Bose Ho ancora tutti questi plus reps Sei vero? Si, ha una velocità nei flick Madonna santa, veramente assurdo Veramente assurdo Meno male che ha smirato come una porca l'alibi Attenzione a Bob, è impazzisco Cioè, sa già le call Anche io lo so già Operate in venti minuti Vabbè Non è difficile Mi son messo lì, ho guardato le stanze Come si chiamano E poi ho ripetuto senza guardare C'è un altro C'è un altro C'è un altro Stato, sai che ho giocato questa difesa La finestra che c'è su Sul closet No? Da lì è bello Poter entrare C'è una buona posizione Però è difficile da entrare C'è uno che tiene, se non tengono quella finestra lì Entri che hanno faccia in credizione Perché sta cercando di scoprire Ti dico già ci sarà già una procura di Vito Le piazzeranno sicuro? Si Si Ti dico già ci sarà già una procura di Vito Le piazzeranno sicuro? Si Non ho capito perché stia tenendo questa parte Sinceramente ragazzi Oh 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 Si ragazzi secondo me La nuova stagione sarà figa con la nuova mappa e il nuovo operatore C'è nuova mappa, il rework ovviamente Si può quasi dire che è una nuova mappa sicuramente Si C'è totalmente diversa Ecco quella stanzione lì E' fantastico E' proprio bello da poter scendere Ma che ci facciamo a questi co... Non lo so Anche quando ti avevo detto che l'avevo difesa io con alibi Erano tre lì fuori Non so come ci facevano Erano tre Oh C'è uno a sinistra Si E' bello che non hanno usato una volta la sua abilità E' dazzali No no ma lui gioca senza abilità Cioè Vabbè 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 Vi ripeto E' sui TS quindi non io non prego niente Ecco scale e spiral è praticamente l'unica che è rimasta uguale e non il bot Sono in delta Tutti che escono Tutti che escono Non ancora Non ancora Si è iniziato Oh l'ha messo Ha usato l'abilità Si Le uso solo per Credo Oh 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 Sta plantando Ah 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 Se l'hai fatto Ah Se l'hai fatta Ah Mi Ah Ma come l'ha preso Troppo forte il bolo Sì, sì, il bolo, ragazzi, assurdo Veramente devastante Allora, raga, è da provare il pompa su Grimm Allora, vi ripeto, il problema è perché uno non usa i pompa È perché, raga, ci sono le armi 1.5 Ovviamente, cioè, col pompa ti devi avvicinare Però quello shotta da lontano, cioè Su questa mappa è da provare Sì, su questa mappa che magari avvicina Sì, ci sta da provare Ciao